Gli ultimi concorrenti di questa serata, il dottore si stava alzando, il dottore Renato Palumbo, un applauso anche al dottore che adesso come da programma deve anticipare l'esibizione con una poesia, prima la poesia, quindi la poesia dal titolo Papà, giusto? Poesia e poi esibizione. Papà, papà, mi manchi assai, adesso dove sei, che cosa fai? Radrizza, mi dicevi quando mettevo i piedi storti, ed in fondo non avevi tutti i torti, mi hai sempre detto non fumare, ci ho messo tempo, ma ho smesso di tirare, a testa alta devi sempre andare, ed oggi tutti negli occhi posso io guardare, mi hai inculcato il senso dei diritti e dei doveri, ed oggi posso dirti che i tuoi insegnamenti guidano sempre i miei pensieri. Papà, tu sei stato e sarai sempre la mia guida e solo così potrò sperare di continuare a vingere ogni sfida. Ti voglio bene, papà. E allora adesso invece è il momento dell'esibizione dopo questa bellissima poesia e la canzone Tusina Cosa Grande, versione Renato Zero, il dottore Renato Palumbo. Tu sei una cosa che bene, non hai cosa che mi parte qui ne Non è cosa che mai fare con le cuore, non ho 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 io, non ho 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 considered così tutte le cuore, non ho 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 Maria, qui si chiude le cuore, non ho 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 ho, ho 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 ho. Perché quando ti guarda così, sicuro tu che siente morire, non mi dice e non mi fai capire. Ma perché è qui, non è la persona, sicuro tu stai tremando, dillo come le pena, com'è, com'è, com'è io bene. Ma perché è qui, non mi fai capire, non mi fai capire, non mi fai capire, non mi fai capire. Ma perché è qui, non mi fai capire, non mi fai capire, non mi fai capire. Ma perché è qui, non mi fai capire, non mi fai capire. Ma perché è qui, non mi fai capire, non mi fai capire. Grazie. 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 Grazie.